Tragedia di sera a campagna dove una bimba di appena due anni è morta soffocata dopo aver mangiato un pezzo di viustel, una merenda fatale. La bambina era a casa della nonna quando è ingoiato il pezzo di carne, non riuscendo però ad ingerirlo, si era di fatto messo di traverso bloccando le vie respiratorie. Immediato è scattato l'allarme. Nell'attesa che arrivasse l'ambulanza, i genitori che intanto erano rientrati hanno caricato la bambina in macchina per raggiungere l'ospedale di Eboli. Lungo la strada hanno incontrato l'ambulanza, la corsa in ospedale è durata pochi minuti ma è stato tutto inutile. Ilaria è morta tra le braccia dei rianimatori ebolitani che per mezz'ora hanno tentato di farle ripartire il cuore. Un arresto cardiaco ha messo fine alla sua vita, lacrime e dolore in tutto il presidio ospedaliero. Alle lacrime dei genitori sono aggiunte quelle dei medici e del personale che ha lottato fino alla fine per liberare la piccola Ilaria da quel pezzo di carne che le aveva ostruito i polmoni. Purtroppo però la piccola bimba dai boccoli d'oro e dal sorriso dolcissimo non ce l'ha fatta spegnendosi proprio nel venerdì santo, il giorno della passione. Una tragedia immensa per i giovani genitori e per tutta la comunità proprio durante il rito della Via Crucis. Grazie. Grazie.